Tigra è una motoscopa aspirante progettata e prodotta da Eureka per spazzare piccole, medie e grandi superfici. Tigra è un'alternativa moderna alle più ingombranti spazzatrici uomo a bordo e dalle sorpassate spazzatrici pedonali, potendo combinare la maneggevolezza e semplicità d'uso di una spazzatrice accompagnata dall'efficienza e produttività di una macchina uomo a bordo. Grazie alle sue dimensioni incredibilmente compatte, Tigra può comodamente lavorare anche in spazi ristretti ed è particolarmente indicata per la pulizia di superficie interne o di grosse aree in moquette. Naturalmente Tigra può anche essere utilizzata per la pulizia di ambienti esterni. La trazione è potente e silenziosa, mentre un'attenzione particolare è stata rivolta al design piacevole e moderno. I comandi sono semplici ed ergonomici. Un unico pulsante controlla la marcia avanti e retromarcia, mentre l'avanzamento è controllato da una manopola di tipo motociclistico. Il freno di servizio e quello di stazionamento sono situati sul volante. Sia la spazzola centrale che quella laterale possono essere abbassate o sollevate grazie ad una leva posta sul pannello di controllo e si attivano o disattivano per mezzo di un pulsante. La disposizione posteriore del cassonetto rifiuti garantisce una migliore visibilità ed una migliore capacità di carico del contenitore di rifiuti. Tigra è equipaggiata con una spazzola centrale di 65 cm montata su supporti oscillanti in modo da compensarne automaticamente l'usura ed agevolare il lavoro su pavimentazioni sconnesse. Nella stessa spazzola troviamo integrate una sezione di setole sottili, efficacissime nella raccolta di polveri fini, ed una sezione di setole più spesse, efficace nella raccolta dei rifiuti più pesanti. Un innovativo sistema di fissaggio ne permette la rapida sostituzione senza l'uso alcuno di attrezzi. Anche la spazzola laterale può essere attivata dal posto di guida. Una seconda spazzola, sinistra, è disponibile come accessori optional. Entrambe le spazzole sono montate su supporti oscillanti al fine di proteggerle contro eventuali urti. La pista di pulizia totale è di 106 cm, il che conferisce una produttività totale alla massima velocità di 5.486 m2 per ora. Un dispositivo alza-flappa anteriore può essere comodamente attivato dal posto di guida. Esso permette alla spazzola centrale di raccogliere anche rifiuti più voluminosi ed ingombranti. Una caratteristica molto interessante riguarda il sistema di raccolta delle polveri. Queste sono completamente filtrate e trattenute mediante un filtro a sacchi in poliestere, classe S, antistatico e lavabile, il quale ha un eccellente grado di filtrazione, 99,99% e gode di una vita molto più lunga rispetto ai filtri tradizionali. Il filtro può essere pulito grazie ad un efficiente scuoti filtro meccanico. Il cassonetto rifiuti ha una capacità reale di 63 litri. Esso poggia su due ruote ed una comoda impugnatura ne permette il trasporto senza fatica sino alla zona di scarico. Tigra è equipaggiata con una motoruota anteriore, che permette di ridurre moltissimo il consumo di potenza. Siamo quindi in grado di proporre la macchina ad un prezzo molto conveniente, garantendo inoltre spese di manutenzione e costo di ricambi particolarmente contenuti. La manutenzione è di per sé estremamente semplice ed il cofano della macchina si solleva completamente per permettere l'accesso al compartimento batterie o di altri organi che possono necessitare di assistenza. Tigra. Fatele fare oggi ciò che le altre faranno domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.